Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso dell'ultimo assegnatario di un alloggio in via dei Pepi nel centro di Firenze stabilendo che quella in cui vive è una casa popolare e questo potrebbe rimettere in discussione l'accessione da parte del comune di quel palazzo ad una società immobiliare. I dettagli con Giulia Baldi. I 14 alloggi del palazzo del comune di Firenze in via dei Pepi in pieno centro storico non potevano essere venduti come normale patrimonio immobiliare perché sono ERP, edilizia residenziale pubblica. Il comune ha fatto, c'è stato un difetto di istruttoria per cui ha classificato male quegli immobili. I immobili che dovrebbero essere ricondotti all'ERP sono stati invece considerati come patrimonio disponibile. Quindi li ha venduti in base a questa errata classificazione. Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso di Giuseppe Cazzato, l'unico rimasto nel palazzo di via dei Pepi 41 riconoscendo che l'intero immobile appartiene al patrimonio ERP. La conseguenza è che non avrebbe potuto essere ceduto come patrimonio disponibile, quindi l'alienazione sarebbe illegittima. Rimane l'incognita su cosa farà ora il comune su una vendita che vale 2 milioni e mezzo. Gianassa, domanda precisa, ha risposto che non avrebbe fatto ricorso al Consiglio di Stato e che se il Tar avesse dato ragione agli inquilini avrebbe levato i 14 appartamenti di via dei Pepi dal piano di vendita. La sentenza del Tar è una vittoria anche di Lorenzo Bargellini, dicono alcuni esponenti di poteri al popolo sotto Palazzo Vecchio con uno striscione in ricordo del leader del movimento di lotta per la casa scomparso l'anno scorso. Grazie.